Quali sono gli ultimi e più importanti studi in partenza o appena sviluppati per il linfoma e le leucemie nell'applicazione delle CAR T-cell? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Quintarelli in occasione della seconda edizione della sua Italian Conference. Dottoressa, quali sono gli ultimi studi più importanti in procinto di partire sull'uso delle CAR T nella leucemia e cosa ci potranno dire? I nuovi studi, i nuovi clinical trial per quanto riguarda le leucemie in trattamento con cellule CAR T si basano soprattutto nel ridurre il rate di recidive, in particolar modo quelle che sono CD19 negative. Parliamo quindi di trial in cui si bersaglia non solo il CD19 ma anche nuovi antigeni come ad esempio il CD22. Uno studio importante che al momento negli Stati Uniti utilizza proprio un recettore chimerico bispecifico per il CD19 e il CD22. Gli studi, i dati che sono stati presentati recentemente all'ASH mostrano un outcome in questi pazienti migliorato rispetto all'utilizzo del singolo recettore chimerico verso l'antigene CD19. In questi pazienti infatti che hanno ricevuto il bispecifico non ci sono relapse che hanno perso l'espressione dell'antigene. Ecco dottoressa, lei si è focalizzata appunto durante questo congresso anche al linfoma. Per quanto riguarda l'uso delle cartine al linfoma che studi ci sono e anche questi che valore potranno avere? Nel campo dei linfomi di Hodgkin ma anche degli anaplastici a larghe cellule c'è un target estremamente importante per i recettori chimerici che è il CD30. In particolar modo nel nostro istituto che è il Bambino Gesù ci siamo focalizzati su un nuovo CAR di terza generazione per l'antigene CD30. La parte preclinica che è stata recentemente pubblicata ha dimostrato ottimi dati e speriamo di traslarlo in clinica entro l'anno prossimo. Grazie a tutti.